Molti uomini porterebbero dei fiori a una donna. Lo sai che il nostro è un gioco pericoloso. Ho fatto di tutto per tenere Jackson all'oscuro delle avventure di Katrin e Richard. Perciò ho fatto in modo di avere il dottor Quaid per quel lembo. Non c'è ragione di avere Jackson in sala operatoria. Forse è un errore. Vengo in città per un caso che ha una forte componente plastica e non lo faccio partecipare. Dici che potrebbe sembrare sospetto? Sospetto. Forse. Oh no, forse no. È come essere al liceo. Lo so, non è divertente. Ah, quando ha detto che aveva da fare non scherzava. Dottoressa Bailey, che piacere. Che fine ha fatto la tua ostruzione del tenue? Sistemata. Non le serve un paio di mani in più per quei pupetti, vero? Ah, veramente speravo che April Kepner potesse partecipare. La Kepner? Sì, ecco, l'ho presa sotto la mia ala protettrice. Sai, è fragile, tu capisci, vero? Si tratta di uno scroto gigante. No, non capisco proprio. Mi dispiace, Bailey. La prossima volta.